Ciao sono Gianluca e il video di oggi è un video che vorrei dedicare a tutti i possessori di Subaru XV oppure a chi è interessato ad acquistare una Subaru XV e si vuole chiarire un po' le idee per quanto riguarda la funzione e l'utilità appunto che hanno i diversi pulsanti che in effetti equipaggiano l'auto e devo dire che non sono pochi e focalizzeremo l'attenzione su quelli un po' più particolari che appunto quando mi capita di incontrare dei clienti Subaru persone che la macchina ce l'hanno già qualcuno in effetti non riesce anche dopo averla guidata non riesce ad avere chiaro il significato di questi quindi li vedremo tutti approfondendo quelli un po' più secondo me ostici ti ricordo come sempre che alla fine del video se hai qualche dubbio puoi lasciare un messaggio se non ti sei iscritto ancora al canale iscriviti e se chiaramente alla fine il video ti è piaciuto comunque ti è stato utile puoi mettere un like però a questo punto direi di non perdere molto tempo di partire appunto attraverso la lettura e la spiegazione prima di quali sono i pulsanti a cosa servono quelli del volante poi andremo a vedere quelli che ci sono sul lato sinistro sotto la bocchetta dell'aria poi andremo a vedere quelli del tunnel centrale e infine vedremo quelli che ci sono sulla plafoniera superiore dando una veloce lettura anche a quelle che sono le funzioni dei vari display la macchina che ho io è una macchina top in termini di allestimento è una XV16 ma ti dirò le differenze che ci sono anche con la XV2000 che sono piccolissime però qualche differenza c'è bene partiamo quindi dai pulsanti che sono sul volante è vero non sono pochi però comunque sono distribuiti in maniera credo abbastanza corretta dal punto di vista dell'utilizzo partendo dalla razza di sinistra abbiamo nella parte alta abbiamo i comandi sostanzialmente per utilizzare la parte multimediale tranne uno quindi con uno possiamo cambiare le stazioni scegliere le frequenze e comunque muoverci all'interno del menu sono le due frecce quella di sinistra e quella di destra poi centralmente abbiamo il pulsante basculante per la regolazione del volume dello strumento che ha in quel momento che potrebbe essere il volume del telefono come di un supporto multimediale oppure come il volume della radio poi scendendo ancora si passa al tasto source source sta per sorgente quindi da lì potrei scegliere se passare dalla radio a eventualmente un altro sistema esterno che poi aver agganciato tramite bluetooth o comunque in altro modo e poi arriviamo al tasto info ecco info è un pulsante che ci dà la possibilità di muoverci attraverso il display centrale quindi non quello davanti a me ma quello che c'è appunto sopra il navigatore un display che può avere 8 o 9 pagine a seconda che la macchina sia un 1600 quindi aspirato oppure che sia la 2000 ibrida la 2000 ibrida in più ha una videata appunto relativa alle funzioni del librido dove puoi vedere in effetti quale dei due motori sta lavorando se stanno lavorando tutti insieme oppure puoi vedere qual è la carica della batteria o se la macchina in quel momento magari sta caricando ma al di là di questa piccola differenza le altre videate che io ho nella 1600 in questo momento sono 8 per cui io posso vedere partendo dalla prima lo sto facendo in tempo reale posso vedere quelli che sono gli strumenti a livello di assistenza alla guida attivi quindi posso vedere il rub posso vedere il Subaru Rear Vehicle Detection posso vedere se l'iSight come sistema di frenata e gestione dell'acceleratore è acceso oppure no e da lì ho subito una panoramica piuttosto chiara poi passo al secondo videata la seconda videata è quella da utilizzare in caso di off-road quindi da lì vedrò l'inclinazione dell'auto vedrò se le ruote sono in presa oppure non lo sono e in effetti se l'iSight mode sta funzionando oppure no a questa videata ci si arriva automaticamente anche quando si inserisce la funzione di iSight mode poi andiamo alla terza videata questa è un pochino più interessante ci sono tre strumenti io in questo caso ho la temperatura dell'acqua la temperatura dell'olio e la velocità media ma volendo entrando dentro il menu si possono modificare alcuni di queste funzioni quindi sostituire questi tre dati con altri dati che potrebbero essere per me più interessanti per cui potrei togliere che ne so la pressione dell'olio e al posto della pressione dell'olio inserire il consumo medio o qualche altro strumento ancora c'è una bella lista per cui se vuoi puoi scendere nel menu e trovare quello che sicuramente va meglio per te dopodiché andiamo avanti abbiamo uno strumento che è una pagina che è quella dedicata al sistema di navigazione se la navigazione è spenta troverai solo una freccia che ti indica in quale direzione inteso come punto cardinale stai andando in questo momento nel mio caso verso sud-est sono orientata sud-est dopodiché poi hai una pagina quella la quinta quella dedicata ai sistemi esterni collegati quindi nel caso tu abbia collegato il bluetooth vedi cosa effettivamente è collegato quindi se c'è collegato un telefono o un altro apparecchio dal quale comunque attingere a funzioni appunto multimediali poi abbiamo la pagina numero 6 che è quella relativa ai consumi dove vedrai il consumo medio del trip A o del trip B a seconda di quale hai inserito e visualizzato sul display centrale e poi vedi l'autonomia andiamo avanti alla settima pagina che è semplicemente un orario un orologio con la data e il giorno di oggi e poi l'ultima pagina che è la pagina quella delle impostazioni in menu info ecco a proposito di questa pagina devo dirti che per entrare dentro il menu info devi tenere premuto il pulsante info sul volante e lo devi quindi non solo premere ma tenere premuto e devi fare attenzione perché intanto lo puoi fare prevalentemente a macchina ferma ma lo puoi fare quando non hai sul piccolo display centrale quello tra contegiri e contachilometri quando non hai anche lì la videata info perché se hai la videata info da tutte e due le parti allora non riesci ad entrare nel menu che appunto ti stavo raccontando quindi qui si conclude la parte relativa al tasto info sotto poi abbiamo il comando vocale quindi l'azionamento del comando vocale attraverso il quale puoi chiedere di fare una telefonata come puoi chiedere di andare da qualche parte quindi impostare il navigatore l'importante quando ci sono i comandi vocali quando lo premi è che tu non abbia rumori esterni che possano influire quindi il finestrino deve essere chiuso e possibilmente chi è in macchina con te dovrebbe non fare troppo rumore perché altrimenti il comando vocale già è difficile entrarci in sintonia altrimenti diventerebbe impossibile a fianco c'è il pulsante per chiudere la conversazione telefonica se stai appunto facendo una telefonata spero attraverso appunto l'utilizzo del bluetooth poi veniamo sul lato destro invece del volante dove quindi razza destra nella parte alta ci sono cinque comandi che sono relativi ai sistemi iSight quindi avrai un tasto che è quello in alto a destra che è quello appunto che ti permette di inserire il cruise control mentre nella parte sinistra troverai una volta che hai inserito il cruise control un pulsante uno rivolto verso l'alto e uno verso il basso che ti permettono di cambiare a cruise control adattivo inserito la distanza di sicurezza dalla macchina davanti quattro step che ti portano da un po' meno di due secondi a circa tre secondi quindi troverai la tua giusta distanza di sicurezza in basso a destra invece c'è il comando che permette il mantenimento della corsia quindi se tu hai quello attivo al di sopra di una certa velocità che è più o meno di 60 km all'ora il sistema si attiva e se stai andando contro la linea che si è tratteggiata o continua bianca o di un altro colore non conta sia di destra che di sinistra il volante diventa attivo e ti riporta appunto verso il centro della corsia è chiaro che se tu lasciassi le mani il sistema dopo un po' si disinibirebbe avvertendoti prima ma continuerebbe a farti rimbalzare da una linea all'altra perché lui non è fatto per mantenere il centro come invece hanno gli ultimissimi modelli Subaru in particolare l'Outback e poi dopo la Forester la bascula centrale è quella che appunto permette di utilizzare il cruise control mentre in basso sulla mia 1600 io ho il pulsante view attraverso view io attivo la telecamera se c'è attivo la telecamera anteriore quindi premendo il tasto view vedo appunto cosa ho davanti a me e posso utilizzare questa funzione per dei parcheggi millimetrici mentre sul lato destro in questo caso non ho niente perché ho l'XV 1600 ma se avessi l'XV ibrida quindi la 2000 su questo pulsante destro che qui è morto e vuoto avrei una scritta S barra I la macchina si accende in I che sta per intelligent quindi un uso intelligente del motore rispetto a quello che io faccio con l'acceleratore se vado invece in S attivo la modalità sport e con la modalità sport ho un acceleratore più pronto e un cambio che lavora in maniera leggermente diversa prima di concludere il volante dietro il volante avrai eventualmente i paddle per le cambiate mentre nella parte diciamo circa le ore 7 dell'orologio appena dietro la razza avrai altri tre pulsanti che servono a muovere la videata centrale di questo ti parlerò tra poco bene quindi eravamo rimasti ai tre pulsanti che hai alle ore 7 dell'orologio dietro il volante e quei pulsanti permettono di muoverti sul menu centrale che si chiama TFT in gergo che sta tra contagiri e contachilometri e tachimetro ecco bene in questo menu pure ci sono diverse funzioni una si parte da quella info che ti permette tenendo premuto il pulsante centrale quello dove c'è scritto i barra set ecco con quello appunto puoi inserire il entrare nel sottomenu quello relativo alle impostazioni dove puoi andare a cambiare veramente di tutto poi invece scorrendo si passa a quello che è il consumo medio e la distanza l'autonomia residua espressa in chilometri che avevamo anche sull'altro display quindi puoi scegliere se averlo da una parte o dall'altra poi hai nella pagina successiva hai il menu invece relativo al consumo istantaneo con sempre l'autonomia replicata poi un altro pulsante ancora invece che ti dice da quanto hai messo in moto la macchina e quanti sono i chilometri praticamente percorsi dopodiché si va al menu della velocità in fondo c'è un altro menu ancora dove troverai una A disegnata con il cerchio in fondo quello è il simbolo dello start and stop ti dice dall'ultimo azzeramento quanto ha funzionato il sistema start and stop in termini di tempo e poi sotto invece vedrai un indicatore della pompa della benzina ti dice anche quanta benzina il sistema start and stop ti ha fatto risparmiare e poi si passa alla videata quella relativa alla pressione degli pneumatici attraverso la quale puoi monitorare esattamente la pressione in tempo reale delle singole ruote e quindi vedere se sei in linea con le pressioni che ti aspettavi oppure no questa videata comincia a funzionare nel momento in cui hai percorso un po' di strada quindi non al primo avviamento ma devi aver percorso circa due chilometri da lì in poi sarà disponibile appunto la pressione delle singole ruote bene ora andiamo sulla pulsantiera che abbiamo sul lato sinistro vicino alla porta sotto la bocchetta dell'aria anche qui ci sono delle piccole differenze tra la 1600 e la 2000 e-boxer ma partiamo appunto dalla 1600 allora intanto questi sono tasti comuni il primo troverai una scritta SRH SRH è una funzione che quando è attiva di solito lo è quando attiva permette ai fari anteriori di ruotare in funzione appunto dei movimenti dello sterzo quindi in curva ti permetteranno una visuale migliore verso l'interno e non invece verso l'esterno come ti darebbe il faro statico se provi questa funzione la macchina deve essere per vedere le differenze in movimento perché il sistema si attiva, l'SRH si attiva a partire da 7 km all'ora poi subito a fianco abbiamo una rotellina e un dimmer quello permette di regolare la luce della strumentazione quindi quella centrale o il navigatore o comunque tutto quello che è diciamo illuminato e anche dimmerabile da qui avrai quella selezione lì poi nella parte invece in basso partendo da sinistra troviamo la spia, il pulsante relativo al controllo della trazione quindi attraverso quel pulsante potrai disinserire il controllo di trazione e quindi questa funzione può servirti in caso di partenze su fondi molto viscidi quando vedi che l'auto effettivamente non riesce a muoversi sganciandolo l'auto perde un po' di controllo appunto sulla stabilità quindi il motore non viene mortificato subito se le ruote scivolano e magari la macchina muovendosi può trovare un miglior comportamento e quindi la speranza appunto di muoverti poi andiamo ad un altro pulsante che è quello dello start and stop quindi il secondo pulsante ti permette se ti dannoia di disinserire la funzione start and stop ecco devo dire che qui cambia dalla 1600 alla 2000 iboxer perché se io avessi avuto in questo momento la 2000 iboxer lì avrei avuto un altro pulsante lo start and stop è insito nel funzionamento del sistema iboxer quindi non avrebbe senso mettere quel pulsante lì ma al posto di quello troveresti un altro quindi sull'iboxer troveresti un pulsante che premendolo ti permette di eliminare il rumore esterno fatto apposta per avvisare ai piedoni che stai andando in elettrico e quindi siccome il pedone di spalle potrebbe non sentire la macchina col motore acceso c'è appunto un sistema molto semplice, banale fatto attraverso una cassa che emette un suono e questo suono per legge è obbligatorio da noi in Italia già da un po' in Europa già da un po' fino a 20 km all'ora se tu sei a 7 km all'ora e quella cosa ti dà proprio noia quel rumore ti dà proprio noia da quel pulsante lo puoi staccare poi abbiamo ancora il terzo pulsante partendo da sinistra è il SRVD sarebbe la sigla acronimo di Subaru Rear Vehicle Detection per cui in questo modo tu disinibisci tutte le assistenze che hai sui movimenti che hai al posteriore sostanzialmente e quindi se io lo stacco e sono parcheggiato a pettine a marcia indietro sto per entrare in strada, se arriva qualcuno, macchina, bicicletta, pedone non vengo più avvisato di nulla altrimenti quando quello è inserito quindi quando quello è in posizione normale se mentre stai facendo una retromarcia hai qualcuno a distanza di molte decine di metri che potrebbe andare a collidere con te vieni avvisato attraverso appunto un cicalino e poi anche dei segnali appunto sui vari display poi l'ultimo pulsante invece è quello relativo all'impostazione della pressione pneumatici che poi il display centrale, avevamo visto prima, ti dà quindi sostanzialmente cosa accade? che ci sono attraverso quel pulsante che va tenuto premuto inizialmente per un paio di secondi a quel punto sul display centrale troverai la scritta set 1 credo, probabilmente sarà quella l'opzione di default tu puoi passare da set 1 a set 2 a set 3 e poi tenendolo premuto ancora lo diciamo fissi la posizione che hai selezionato e cosa corrisponde il set 1, set 2, set 3? corrispondono sostanzialmente alle pressioni minime che l'auto deve avere e alle quali tu vuoi essere avvisato se c'hai un sottogonfiaggio quindi se hai la macchina scarica quindi due persone e qualche bagaglio va bene il set 1 ma se tu hai invece 5 persone con tantissimi bagagli e magari anche qualcosa sul tetto dovresti mettere andare alla posizione 3 chiaramente e allora le pressioni gli avvisi vengono dati al diciamo quando le pressioni scendono sotto una soglia che ha un valore certamente più alto la posizione 2 chiaramente è quella nel mezzo e così anche con questo pulsante abbiamo concluso diciamo la descrizione della plafoniera sulla sinistra bene siamo giunti ora al tunnel centrale la descrizione del tunnel centrale il cambio è un cambio automatico inutile che scenda troppo nei dettagli se hai le palette in fondo avrai la duplice scritta M barra D quindi manual drive se non hai le palette avrai la scritta L barra D low drive e se si mette il cambio in L la macchina offre un po' più di frano motore quindi Subaru dice nelle discese se vuoi avere un po' più di frano motore metti la leva del cambio in modalità L poi si passa alla VH VH è acronimo di Auto Vehicle Hold sostanzialmente ogni volta che ti fermi si inserisce che tu sia in salita o in discesa non cambia si inserisce il freno a mano elettromeccanico da solo quindi quando ti fermi lo vedi anche dal display la macchina rimane hai la certezza che rimanga immobile per ripartire basta toccare il freno o accelerare e la macchina riparte poi c'è X-Mode X-Mode è un programma che migliora il controllo della trazione e ti assiste nel mantenere la velocità corretta in discesa se stai affrontando una discesa piuttosto impegnativa ho già fatto un video su X-Mode ti lascio la scheda qui sopra e presto ne farò uno sulle ultimissime evoluzioni di X-Mode quello che ti ricordo funziona in questo caso fino a più o meno una velocità di 20 km all'ora poi rimane una volta che l'hai premuto rimane presente fino in stand by fino a 40 km all'ora oltre 40 km si sgancia per la maggior parte dei sistemi è così ma col nuovo video spiegherò i dettagli ma in XV comunque in questo momento è così poi freno a mano elettromeccanico l'altro pulsante per inserire il freno a mano basta tirare su il pulsante come si faceva con la leva e lo puoi fare semplicemente appunto cliccando verso l'alto per togliere invece il freno a mano bisogna mettere il piede sul freno quindi ci vuole piede destro sul freno o sinistro se guidi col sinistro e poi premi il pulsante verso il basso e lo disinserisci se hai la cintura allacciata il disinserimento avviene semplicemente accelerando quindi basta che una volta che lo hai inserito sfiori il gas e la macchina parte tra l'altro in maniera molto delicata poi ci sono i due pulsanti invece che eventualmente se ce l'hai come funzione regolano le temperature del sedile con a due livelli quindi si parte da un sedile spento e poi altrimenti si può accendere e riscaldare il sedile in maniera bassa o in maniera un po' più alta bene poi veniamo invece alla parte appunto alta quella della plafoniera dove puoi avere qualche pulsante in più se hai appunto il tetto apribile oppure se non ce l'hai ma di base a parte i due pulsanti di apertura del tetto uno lo apre a compasso uno lo fa scorrere avanti e indietro gli altri due pulsanti che trovi quello sulla sinistra è un pulsante che esclude il cicalino che ti avvisa se stai oltrepassando le linee di destra e di sinistra ne avevamo già parlato prima ma quell'altra come funzione era proprio una funzione attiva sullo sterzo questo invece è semplicemente un'indicazione quindi se lo vuoi disinserire basta che tieni premuto un attimo il pulsante e la funzione si disinserisce il bip ti avvisa che lo stai facendo anche questo ti ricordo è legato a una funzione che si attiva sopra i 60 km all'ora di velocità l'altro pulsante invece è un pulsante abbastanza importante di cui molti ne ignorano il funzionamento ecco il secondo pulsante invece serve a escludere sostanzialmente la funzione di controllo dell'acceleratore e di controllo del freno dell'iSight quindi se proprio non è indispensabile non lo toccare va tenuto premuto a lungo perché anche quello è un pulsante che è pericoloso se la funzione la si toglie appunto accidentalmente e quindi cosa faccio? io quando premo quello lì e disinserisco lo vedo da una spia anche sul display centrale avrò una macchina che non fa più la frenata automatica se c'è una necessità e se sono distratto e nello stesso tempo se ho un ostacolo davanti non mi parzializza più il gas quindi se io do tanto gas la macchina ne sente tanto al di là che abbia qualcuno vicino oppure no a cosa serve quel pulsante? sinceramente sulla sua escludere la funzione frenante non vedo molto significato mentre potrebbe esserti utile sapere che puoi escludere quel pulsante per eliminare il controllo sull'acceleratore quando magari hai delle situazioni un po' particolari che a me sono capitate del tipo a Milano volevo parcheggiare su marciapiede dove di fronte c'era a pochi metri di distanza meno di 10 sicuramente altrimenti la funzione non avrebbe lavorato c'era una casa quindi un muro di una casa e allora io non riuscivo a salire su marciapiede perché mi veniva essendo vicino alla casa essendo a meno di 10 metri dalla casa mi veniva proprio in funzione dell'ostacolo che avevo davanti illimitata la coppia disponibile e quindi la macchina non riusciva a salire un semplicissimo scalino sganciando quello sono salito su piuttosto bene come faresti con tutte le Subaru sopra qualsiasi tipo di marciapiede quindi direi con questo di aver concluso anche la parte alta quella della plafoniera e credo che a questo punto la carrellata sia piuttosto a buon punto se non addirittura direi terminata manca qualcosa ma lo vedremo nelle conclusioni bene siamo giunti alle conclusioni a questo punto mi rimane semplicemente beh ci sono dei pulsanti sulla maniglia sostanzialmente sotto la maniglia sulla porta ma quelli sono piuttosto semplici si tratta di muovere i vetri gli specchi e di regolare appunto gli specchi sbloccare le porte e così via non c'è altro credo da dire ci sono i devioluci anche lì inutile scendere nel dettaglio credo che ormai siano abbastanza tutti standardizzati volevo solo dirti l'ultima cosa a proposito del pulsante Trip Reset che invece hai vicino al contagiri ecco con quel pulsante tu puoi azzerare il contatore di quel momento sappi che di contatori ce ne sono due se lo clicchi passi dall'A al B e lo puoi leggere dai vari display che hai in giro se sei su uno o se sei sull'altro quindi volendone puoi tenere uno per i viaggi lunghi quindi per percorrenze lunghe e l'altro invece per i singoli segmenti ma quel pulsante se hai necessità di vedere senza salire in macchina e senza metterlo in moto quanti chilometri hai o quanto carburante hai basta che apri lo sportello clicchi lì e intanto vedi il chilometraggio e appunto la quantità di carburante che in quel momento hai e con questo direi di avere veramente concluso ti ricordo che ho già fatto dei video a proposito di altre funzioni delle quali ho parlato oggi mi viene in mente per esempio il cruise control ti lascio la scheda anche di questo e quindi pur essendoci qualche piccola differenza ogni tanto tra un'auto e l'altra puoi far riferimento anche a quelli a quelli comunque della playlist che poi ti lascerò alla fine detto questo sono stato lunghissimo spero ti sia stato utile ricordati il like se il video ti è stato utile o comunque se ti è piaciuto se hai dei commenti scrivimili e se non ti sei iscritto al canale ancora fai anche quello che mi fai un bel regalo per quanto ci riguarda ci vediamo per gli appassionati di Subaru con qualche video dedicato fra qualche settimana mentre la settimana prossima fra un'altra settimana esatta ci vedremo per un altro video o quelli classici del canale l'argomento come sempre la settimana prima non lo so ma spero ti possa interessare anche quello ciao